Il sabato di Rai Duel Nel segno del giallo Potevano specchiarsi l'una nell'altra Si ha sempre bisogno di un secondo cuore Era un gioco divertente Ma quando lo specchio si rompe Dobbiamo chiamare la polizia Ma segna che cosa gli raccontate? Che due gemelle dai gusti un po' strani avevano deciso di divertirsi Il gioco diventa tragedia Doppio legame In prima visione Sabato 20.50 Rai 2